Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui vi mostro un'applicazione di siti chiamata Quick Gestures Quick Gestures agisce sui nostri contatti e ci permette di fare una cosa che Android ha sempre fatto e che ahimè mi è molto mancata su iOS e mi è molto mancata fino ad oggi perché appunto questo tweak la implementa sul nostro iOS quindi su iPhone, iPod Touch e iPad. Quindi con Quick Gestures come vedete sono sull'applicazione contatti abbiamo le gestures sui contatti quindi se io vado a trascinare un contatto verso destra posso chiamarlo come potete vedere posso eseguire una chiamata. Se al contrario faccio uno swipe verso sinistra posso tranquillamente mandare un messaggio al diretto interessato ma non è finita qui. Se io tengo premuto su un contatto potrò tranquillamente mandargli una mail in modo molto molto rapido l'applicazione è molto fluida in tutte le sue funzioni. Davvero la trovo molto molto veloce sicura di sé diciamo per dire che non ha lag e soprattutto è molto molto comoda l'unico bug che ho riscontrato è che se io dovessi chiudere l'applicazione dal menu del multitasking e successivamente riaprirla ogni volta che la apro e che quindi deve ripartire da zero quindi non ogni volta che la apro che era già aperta in background ma ogni volta che la apro quando era chiuso dal multitasking mi compare questa video di ringraziamento per aver scaricato Quick Gestures ad ogni modo comunque è un'applicazione davvero fantastica ve la consiglio molto Quick Gestures è scaricabile da Cydia dalla repo di Big Boss al prezzo di 0,99 dollari ed è compatibile con tutte le versioni di iOS 6 spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale e anche al mio canale Android troverete il link in descrizione un saluto, ciao a tutti!